Allora, ora chi esce questo qua si mette la casa, via, pari, pari, ma strano ti mette la casa, è uno, venite a fare il secondo, il secondo, il secondo, il secondo, il secondo, il secondo, il secondo. L'Argentina è campione del mondo e la nostra SL Cam si accende su un match dell'It League di questa ventunesima edizione dello Sbordone League, comincia la dodicesima ed ultima settimana dedicate alle regular season, Sono gli ultimi 50 minuti per alcune squadre che hanno gli ultimissimi match da recuperare In Under League abbiamo già cominciato la sfida tra Scimmia e Landed Arsenal E l'ultimo appuntamento del terzo girone che manca sul calendario di Under In Elite invece saranno due gli appuntamenti di questa domenica pomeriggio in cui ci sono solamente sei match Due, intanto qua c'è il retro passaggio, mi sa, Torvino, ben entrato in campo Fatto un po' tardi rispetto agli altri che erano già pronti E sì, punizione in aria, subito per la squadra dei Baretti Baretti Italia, manca come match in Elite così come manca Bragantino Marianella Che si giocherà come match di chiusura alle ore 22 Abbiamo startato alle ore 19 Per goderci la finale della Coppa del Mondo con l'Argentina e Francia E col trionfo della Nazionale Albiseleste Due sul pallone, sono Evangelista e Castaldo Si prende il fischio di Josué Che torna sui nostri schemi C'è il tocco e c'è il sinistro, la palla che schizza in alto E allora, sette appuntamenti in questa domenica 18 dicembre Mezzanotte è il mio compleanno per chi non lo sapesse E dicevamo, saranno due quelli in Elite, saranno tre in Major Dove si deciderà praticamente sia il ranking totale Perché ci sono ben sei squadre immischiate Anzi no, una è una amichevole, ho sbagliato io Sono due appuntamenti in Major Uno è un test match Quello tra Wimbledon e Belli dei Nonno Ma i due match di Major cambieranno volto Alla classifica 16 squadre delle 16 finaliste Con i match Machinet Blaugrana e Godenzonen Trapplov Ballano tanti punti ranking L'Italia e Barretti invece hanno obiettivi differenti I Barretti sono campioni dell'Elite League ormai già da due settimane Perché l'ultima hanno riposato Otto vittorie in otto partite 24 punti raccolti 13 invece i punti dell'Italia in otto sfide Matematicamente quarta Non può salire né al terzo posto Perché a quattro punti in meno ci avrà De Lobos E allo sconto diretto vinto col City Che a pari punti Anche i Barretti non hanno nulla da chiedere A parte registrare un record storico nel nostro circuito Vincere tutte le partite del Gironi Elite Soprattutto in questa edizione dove le partite sono state nove E non otto come la precedente E non sette come tutte le altre Elite Dove il Gironi era composto da otto squadre È la prima volta che abbiamo portato il Gironi a dieci È la prima volta che una squadra ha vinto otto gare In otto partite Palla per Evangelista E allora Andiamo a vedere un po' i protagonisti in campo L'Italia in casa a Carancio Torvino in porta Al centro Marco Ricciolio A sinistra Bruno Degli Alise Confermato rispetto all'ultima apparizione Contro l'Ispurso La vittoria è rimonta La squadra di Oriente Imperatore A destra in Pagnozzi Centro campo a tre Imperatore Lì in mezzo Oriente mezzo destro Esposito mezzo sinistro Diego Ricciolio Terminale offensivo Cocciardo Per i Barretti in porta Rinauro fa il Dipensore Centrale Divenuto E Riegel ai lati Interno il ritorno di Andrea Utieri Dopo l'infortunio Ha recuperato in due settimane Anzi In tre settimane Perché si è fatto male tre settimane fa E quindi Invece no Ho sbagliato io Lo schieramento E poi c'è in mezzo Andrea fa il terzino Divenuto a destra Rinauro il mediano Quindi lì davanti Non cambia nulla Rispetto alle ultime partite Con Evangelista Castaldo E Pollice Che si scambieranno Le combinazioni Ma l'Evangelista Sicuramente è più avanzato Qua c'è un tacco di Ricciolio E recupero di Autieri Che poi prova a spingere un po' Tocco di sinistro Più delle alise Ricciolio Carica il sinistro Deviato Angola Ancora dubbi Da scemare Sulle 16 Appunto Finaliste Dipenderà molto Da quei due match Di Major Dipenderà anche Da Marianella Bragantino Perché Occhio Il Marianella A sei punti È una squadra Che Si è ritirata Nel vero senso Della parola Dopo tre giornate Poi è stata affidata Agli svincolati Che hanno ottenuto tre punti Con il Wimbledon Sono a sei punti Intanto Rovesciata timida Di Diego Ricciolio Parata di Cocciardo E dicevamo Lo Ian Fulla Ha totalizzato Solo sette punti Ed è la settima Forza dell'elite Per tre fa 21 punti Di ranking Se il Marianella Vince Va a 9 punti E scavalca Appunto La squadra Dello Ian Fulla Che in questo momento È sicuramente Il fanalino Di quota Delle 16 squadre Finaliste Quindi probabilmente Incontrerà il Baretti Che guideranno La classifica A 16 E nel tabellone Appunto Sarà prima Contro sedicesima E occhio a questo pallone A porta vuoto Alza sul fondo oriente Amoroso E dicevamo Sul discorso Delle 16 finaliste Dicevamo Sedicesimo posto Quase matematico Per lo Ian Fulla Perché Sia la quarta Della Under League E sia La sesta In questo momento Del girone di Major Che In questo momento È l'FCP Ma potrebbe non rimanerci Fino a stasera Perché con una vittoria Il Madrink potrebbe fare 12 punti E superarla Quindi O 11 O 12 punti Moltiplicati per 2 Farebbe 22 O 24 Sarebbero più punti Dello Ian Fulla Che ne avrebbe 21 E quindi Sicuramente Non sarebbero All'ultimo posto Nemmeno i ragazzi Del Boca Che sono quarti In Under E hanno collezionato 17 punti In Under I punti di ranking Sono moltiplicati Per 1,5 E quindi Salirebbero a 25 Palla dentro Deviazione Torvino in due tempi E quindi L'ultimo posto Della dei 16 Finalista Al 99% Erione Ian Fulla Solo il Marianella Può evitare Questa situazione qua Vincendo il male del match Scavalcando lo Ian Fulla In classifica Portandosi quindi A 9 punti Che per 3 Farebbe 27 A quel punto lì La sedicesima Forza del ranking Sarebbe O una di Major O una di Under E allora Giro palla Pagnozzi Difettosi nel controllo Oriente Subentra Poi Pollice che gira Il pallone evangelista Nel mezzo L'uscita Abbiosa Di De Lialise E poi il palleggio Di Vivo Che apre a Castaldo Il controllo Di sinistra E di Petto Il destro e mezzo E il tapin in rete Di pollice Assist Di Castaldo Vantaggio Barretti Ma l'avevamo detto In sottofondo Qualche musica Qualche canzone E perché lì su Nel campo di calcetto Del centro sportivo Stanno facendo Un baby shower E' la prima volta Nella nostra storia Che assistiamo A cose del genere C'è anche questo Nell'ultimo turno Sbordoniano Del 2022 Calcia Diego Ricciolio Blocca Cocci Poi la SL Cam Si riaccenderà L'8 gennaio Nel 2023 Con i match Ad appuntamenti A eliminazione diretta L'inizio dell'Europa Con la Champions L'Europa League E' arrivato Capitale E' lì Con chi giochi Red Bull Vantaggio Barretti Quindi in questo momento 27 punti su 27 disponibili Roba incredibile Vi rivediamo Non l'abbiamo mai vista Una squadra A totalizzare Tutte le vittorie Nelite Ancora più rumore Vedendo che le partite Quest'anno Erano diventate 9 Ed è l'unica squadra A cui non sono stati attribuiti Punti a tavolino Perché con Marianella Ci ha giocato Quando in Marianella Era ancora Di delle donne Ha piegato tutti Insomma Tutti sul campo Riegel Verticale D'angelista Divo Sicuramente Partire Nostra di partenza Della Champions Come favorita E come Giazzi che sposta Emanuele che è finta E va centralmente Da imperatore Di nuovo Emanuele Sposito Tocca il pallone Con la punta Per Diego Ma c'è l'uscita Sempre decisa Di Riegel E poi la corsa De Autieri Verso la porta Intervento di Marco Riccioli Mette fuori Le mani di Autieri La testa di Marco Riccioli Ha tutta la rimessa Con le mani Per pollice Che contro due Quaggiù Sarà una revisione Probabilmente Poi il pallone Esce fuori Diamo un'occhiata Retropassaggio Di Riegel Ciardo Poi non esce tutta Quindi Emanuele Operatore Dimesso La mia prospettiva Può essere anche utile E allora Intervento sul pallone Con la punta sinistra Del piede di Marco Riccioli Poi dopo C'è un calcio Sull'avversario Ma ovviamente In questa situazione Non c'è penalty Lancio lungo di Cocci Lungo troppo Poi le mani di Bruno Per la corsa di Oriente Che va al volo La gioca di prima Evangelista Temporeggia Con l'uomo dietro Riccioli Usce il pallone Controlla la situazione Torvino Riprenderà il gioco Con i piedi Giova corto Pagnozzi Con finta Sulla pressione Evangelista Che rimane là Ancora Pagnozzi Per fare superioretea numerica In questo modo qua Riesce bene Perché poi la palla Arriva a Oriente Di là Tramite Diego Imperatore morbida Velo di Diego Emanuele Ancora per Riccioli La finta Il sinistro Deviato È divenuto Appostato Lì Salva tutto Poi c'è il lancio E c'è Il pallonetto E le mani di Torvino Sulla gran giocata Di Evangelista Che passa davanti A Marco Riccioli Sfruttando il rimbalzo Del pallone Coprendo lo spazio Benissimo Evangelista Che aveva soffiato Con la posizione All'avversario Emanuele Ancora Riegel Che poi conquista Anche fondo Terzo intervento Perfetto Del difensore Di Baretto Qui Troppo forte Il passaggio Per Evangelista Ancora Riegel Adesso Esposito Imperatore Per Diego Ricciolio Arriva l'uomo Spostato sul sinistro Ritorna da Pagnozzi Uno sguardo dentro Ancora Mike Pagno Per Ricciolio Per Emanuele Cross di destro Ancora Diego Vediamo se ricomincia tutto No Punta due uomini Adesso cambia gioco Però Un po' difficile Questa palla per Bruno Che deve Arretrare un po' E' bravo A risolvere questa situazione Subisce anche fallo Quindi punizione lì Le mani del tipo Marco Ricciolio Due volte Poi Riegel Ottimo uomo Se la cava benissimo Rinauri Verticale Escono in due E poi c'è una deviazione Con Diego Poteva raccogliere Questo pallone vacante Facendolo diventare pericoloso Adesso Autieri Castaldo Si muove tra le maglie Arancio Tocca per Autieri Che poi va a rimpallare In passaggio Di Bruno Degli Alise Che poi Con le mani Rimette Zona Emanuele Controlla Sposta Sul sinistro Arrivano in due Ancora lui Riegel col tacco Esce bene Ci sono Deviazioni lì in mezzo Tacco di Bruno Non passa Non c'è fallo lì Non può scomparire l'uomo Allora sale Autieri Cambia di sinistro Angolo C'è un cross Velo Che però Mette in difficoltà Castaldo La parte di pollice Le mani di oriente Imperatore Apertura da questo lato Un mezzo esterno Emanuele contro Riegel Doppio passo Va Ancora lui Il tanzolo chiude Il Divo Poi ringhia Pagnozzi Qua Diego Mancino In porta Sul di dietro del Divo Raccoglie Col tacco Ma la palla esce Sul controllo di Autieri Rimessa Italia Che Sta giocando A testa altissima Contro i campioni di elite Ovviamente la squadra Di Imperatore Oriente Registra due titoli di edizione Questa è una delle partite Dal livello tecnico Più alto Che può offrire Il nostro circuito Piedone lì di Riegel E poi Imperatore Raso Battente un po' La tiene lì Cocci Giova corto per Divo Verticale pollice Raccoglie Si gira Allarga bene Ancora per Castaldo Finto il tiro Poi pallonetto Dentro Coscione di Pagnoz In chiusura In anticipo E poi Controvede La squadra In casacca arancio Sopra le magliette azzurre L'Italia Doppio passo Di Autieri E pallone un po' Difficoltoso Per Castaldo C'è sempre Riegel In mezzo C'è un tocco Rinauro Due tocchi Evangelista Rinauro Scimialendi In vantaggio Credo di là Sull'Arsenal Perché lì Se le Scimialendi Vincono Superano l'Arsenal In classifica In under league Staccandosi Al penultimo posto Qui Pagnoz Chiude il buco Autieri Dentro Pagnoz Col piedone Petto di Diego Perre Imperatore Tutto di prima Uscita Arrabbiosa Di Autieri Allora Imperatore Inestirata Deve concedere Tusce Perché nessuno Stava dando una mano A destra Mani di Autieri Riegel Pallo di Diego E allora Si ferma un po' La musica o no E comincia ora Chissà se non mi bloccano Il video su YouTube A questo punto qua Che in sottofondo Non so quanto si può sentire Possono bloccare tutto Per copyright E regole del genere No Bruno Mannaggia Copyright La musica in sottofondo Qua non si capisce nulla Pallo lì 2-0 Ora 3-0 Scimialendi Sull'Arsenal 3-0 Castaldo Da lì Palla che batte Torvino Che smanaccia La palla però non esce Altra punizione Calciata nello specchio A Castaldo A questo punto qua Il miglior tiratore Di calci punizione Nel nostro circuito Perché nessuno Ha i suoi numeri E intanto Pagnozzi Pasticcia un po' Ma Autieri No Colpisce proprio Un buco lì Nella rita Ragazza è nata È femmina Quindi Josué Femminuccia Josué Ha sbagliato il pronostico Josué Allora Tanti auguri E complimenti Girata di destro Direttamente Per Torvino La parte mia Può giocare Peter Moccade Con l'altro pallone Però spettacolo Lipiro Tecnico Con Coriandoli Rosa Che Entrano Nel nostro campo Grazie Peterone Oh ma qui un giorno Faranno le panchine Quindi le hanno montate E allora Si ricomincia Con Pagno E Riegel Che rinvia Le mani Riegel E poi Lì Ultimo Come Autieri In qualche modo Rinvia Con Manuele Che non è andato A attaccare Quella zona Pagnozzi Pagnozzi Dentro Con un pallone Che gira Pagnozzi 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 Sce bene Riegel Poi Gran tocco di Pollice Per Evangelista Che torna un po' dietro Da Castaldo Raso Malona di Torvino Tra le maglie Arancio Angolo Rinauro Rinauro Crossa Unni Di Torvino Rinauro Di nuovo Sul pallone Divo Carica un destro Occhio Che impatta Pollice Appostato Sempre lì 2 a 0 Barretti Doppietta Di Pollice Raddoppio Barretti Con Pollice Sinistro E Coccino Precisissimo In questa presa Qua Riegel Rabona Del Divo Di prima Pollice Castaldo Prova a uscire Da quel traffico Lì Appoggia Riegel Centrale Che Apre questo pallone Verso Autieri Controlla il passaggio Verso Evangelista Che azzone stanno facendo I Barretti Palla dentro Piedone Al contrario E poi Svirgolata Di Marco Ricciolio Bombone Salvataggio In qualche modo Di qualcuno E rinvia Pagnozzi Italia N'affanno In questo momento Qua Prova a salire Con Diego Poi c'è solo Di lui Non lo molla Ci fallo Diego 2 in barriera Alta Primo tempo Dice Josué 2 a 0 Barretti Sull'Italia Nei primi 25 minuti Eh È una squadra diversa Questa E lo sbandito Come Suggerisce Il Divo Perché poi I Los Banditos Non hanno occhio Però Perché c'è Cocciardo A salvare tutto E poi il Tapin Di Imperatore Cominciava così La ripresa Mentre Io distrattono un po' Col Divo Con domande La differenza Tra Barretti E l'ultima compagine In cui ha vestito La maglia È divenuto Los Banditos Con cui È stato Campione Edizione Intanto Lì Torvino Barretti Barretti Occhio qua Palla che esce fuori Non è un ragazzino Piccolissimo Visicamente Quindi Abbinare Fisicità e tecnica Soprattutto Giovi Squadra Una bella corazzata Questa qua Che vestirà la maglia Del Marianella Contro il Bragantino Intanto la palla Che non passa più Quando c'è Bruno Dell'Aless A sparare via Palla di Riegel Verso Autieri Un po' lunga Ma non male È vero La parada di Cocci È molto simile A quella di Martinez Che fa Nella finale mondiale A tu per tu Qua invece Protestano tantissimo I ragazzi E l'Italia Perché volevano Un calcio d'angolo Sale un po' Castaldo La porta su Sinistro dentro Il ciò lo chiude Ripartenza Dell'Italia Con l'imperatore Cocci Non Trattiene E poi respinge Occhio Questo pallone Improvviso Nell'area L'Evangelista Il capocannoniere Dell'Elite Con 12 gol Hanno ancora trovato Una rete Ma comunque Se dovesse finire così Il secondo è Lanza Stasera Gioca Dovrebbe fare tre gol Per pareggiare i conti Vediamo come finisce Anche la scarpa d'oro Della Liga Massimo Divo Attaccato da Diego Che Devia un po' Divo contro due Esagera ma Passa E poi alza E poi alza Cioè Corto con Marco Ricciore Torvino Marco invece va a lungo Però Preda di Riegel E poi Prova uscire ancora Al Piona Anche Imperatore Poi ci fanno Che ho mezzo due contro uno Ci prova Marco Col destro Due in barriera Alta anche per lui Castaldo Che fa un aggancio Meraviglioso Sul rinvio di Cocciardo Mi stava venendo addosso Meno male che la SLK Spenta Che mi stavo Azzeccando a terra Questo era un fuori onda Sarebbe stato divertente Emanuele per Imperatore C'è la deviazione di Giuseppe Ma è un influente Quindi si continua Marco Pennella Gran palla Si ferma Emanuele Non capisco perché Ottima la palla di Marco Col tempo giusto Secondo me Era entrato Emanuele Che proprio si è fermato E allora l'aggancio di Evangelista Pollice C'è la copertura Poi c'è il tocco di Imperatore La corsa di Oriente E poi palleggio di Imperatore Fondo Castaldo Per Divo Dell'Ungra Degli Alisi Ricciolio Pagnozzi Chiuso Autieri Prende sale Spinto un po' Continua Poi palla fuori Degli Alisi Emanuele Emanuele Esposto Contro due Gran giocata Punizione Calcia Diego Raso Cocciardo La tiene lì Mani piedi Poi Che batte dalle parti di Marco Che svetta bene Poi lì 3 Dell'Italia Pagnozzi Buona la torsione Per arrivare Emanuele Cross dentro Deviazione Di Riegel Angolo Batte Oriente Destro Rientro C'è una testa Non so di chi E poi Castaldo che deve evitare l'arbitro Se la porta di là Mette fuori Oriente con le mani Bruno Attacco di Diego Arriva Oriente Piedone di Divo Piedone anche di Degli Alissi Piedone Pallone colpito dal Divo Palla dentro Che gira fuori Bello però Questo doppio contrasto Degli Alissi Divo Gran duello Tra due gladiatori Del nostro circuito Secondo me Tutti sul pallone In maniera molto pulita Triangolo là 3 contro 2 E allora esce Riegel Si va centrale Un po' timida Questa palla Con Marco Che prova a uscire Con dei contrasti Emanuele Anzi Diego Ci fallo Reazione di Autieri Punizione Punizione lì Punizione dove va Pagnozzi Della Lissi Davanti A portiere Ma con i piedi Sulla linea piccola Quindi può stare Non dentro Ma al limite Che sì Comunque la punizione È stata rimpallata Eccolo Igeniperna Aspetta che ti Aspetta che ti vedo Però C'è Vangelista Che va da pollice E qui Torvino Salva in qualche modo Non ha agganciato Ieri Rimessa Italia Un po' Sorparagliare Mi genere 1-2 Con Della Lissi Spostato punta C'è un cross Colpo di testa 0 metri Palo Fallo di Bruno Su Riegel Palo secco Di oriente Quasi 29 anni Quasi 29 Dove vai? Stai bevendo? Stai mangiando Il Nutella Biscoe? No si apre lo stomaco Non c'è pure a te Petto di pollice Ma poi vi siete messi Ad ambo i lati Del campo a mangiare Tutte e due E uno là E uno alla mie spalle Crossa Emanuele Col destro Esce poi Pagnozzi Si lancia a sinistro Angolo È buono È buono È buono È buono È buono Ha vista bene Josué Però c'è attaccato a corto Palla dentro E colpo di testa In angolo Ancora cross E ancora Riegel Spalla schiena Punizione La spica è il torbino Stava raccontando Quali in cui lavora E la punizione Disinnescata da Cocciardo Poco fa Divo cambia di là Con le mani Un'uscita fallosa di marco Un'uscita fallosa di marco Un'uscita fallosa di marco Ha già chiamato Lo stesso fallo di prima Bello già l'ho detto Sinistro che gira in porta E qua Pennellata di Castaldo Sul primo palo C'era spazio Per un mancino Ma lui È precisissimo Segna Un altro calcio Di punizione L'avevamo detto Nel primo tempo Il scordone Più preciso Sui calci piazzati Ufficialmente Assolutamente 3 a 0 Barretti Diego Calciardo Bisinese Hai girato Però voglio rivedere La punizione Di manso Eh sì Ha girato molto bene Sul lato della barriera Castaldo Cecchino Allunga 3 vantaggio Quindi la squadra Di Autieri Consolida Il risultato Di questo match Flavio Che è successo? E che disedimento? Eh Che vi facciamo le cavi Dentro al fottino Ah A metà di nove Che ha solo Staggis Staggis Porta il cross Colpo di testa Di pollice Non arriva Riegel Torvino in avanti Buona la palla per mano Operatore prova A uscire Per Diego Chiuso Paco di Evangelista Anzi di Autieri Rimessa per lui Con le mani Poi Non lo so Destro-sinistro Doppio di Pagnozzi Che poi va in verticale Da Diego Partono in Quattro contro due Diego però Sul muro Poteva avere La lucidità Di passarla Perché poi c'erano Due compagni Laterali Ben piazzati Mentre la palla C'era Emanuele Esposito Deviata Vediamo un po' Si è angolo Inessa Con le mani Va Emanuele Imperatore Esposito Sulla testa Di Pagnozzi Fuori Adesso sono Almeno Tre situazioni In cui poteva Riaprire L'Italia Una parata Di Gochard Due colpi di testa Ravvicinati Che si sono spenti Sul fondo Impatto Degli Alice Punizione Bruno Poggia dietro Riegel Apre Castaldo Triangolo Di prima Adesso Prova a giocare Sul velluto La squadra In maglia Blu Ancora Vangelista Qua Castaldo Sempre di prima Con Bruno Alleggio Triplo Poi timido Il pallone centrale Vangelista Prova a ruotare Castaldo Che riruba Oriente pure Alzato In aria Punizione C'è stato il giallo Per il fallo Suoriente Marco Ricciolio Col destro Prova Marco Orbita Sembra un cross Ginocchio Di Riegel Aggancio E palleggio Di Castaldo Chiuso Chiuso Messa battuta Per Riegel E poi Riesce a darla Ad Autieri Poi niente Bruno Imperatore Zona tiro Dentro Per mano lunga C'è fallo là Già battuto però Allora Emanuele Destro Cocci Chiude Il primo palo E poi c'è uno spazio Incredibile Per i due Uomini Più avanzati E baretti Controllo Di Evangelista Sposta sul destro Ne sono in due e mezzo Palla dentro Pollice Contro la di coscia Attende qualcuno Che sta arrivando Castaldo Malissimo però E palla che fa il giro Non so Dell'universo Pallito C'è gente Lancio di Marco Tutti a vuoto Traversa gol Non era a fondo Era un lancio Dall'area di rigore Hanno bucato tutti 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 Però non so se ho preso Il tiro proprio Ho preso dello pallone Non avanti Ok Sì La palla Era già stata calciata Sul mio play Marco Ricciolio Non è a fondo E allora 3 a 1 Gol dell'Italia Situazione Molto strana Diciamo Veramente Hanno bucato Tutti col pallone Tacco di Pollice Riconquista Poi Altro contrasto Vigoloso Lì nel mezzo Tacco di Marco Torvino Che lancia Sta stato di punta Palleggio di Tivo Bocciardo Di prima Autieri Per evangelista Si allunga Torvino La porta diventa vuota Pollice Fa tripletta Su un'altra situazione Clamorosa Segna l'Italia Questa volta Anzi Segnavano i baretti Questa volta Incredibile Per viene uscito Calciato Si questa è proprio la FIFA Sei bug di FIFA Questo è FIFA online Che devi perdere la parte 4 a 1 Però Tanta roba evangelista Che Qui c'è un'invasione Di Bruno Ragazzi Bruno già sta là Prima che Non l'hanno visto Ma Bruno Era già in aria Secondo me Un paio Dico il disvantaggio Un'altra volta Bruno fa invasione Comunque Stavolta però Colciardo Di si innesca In due tempi Però i baretti Anche in questo match Stanno dimostrando Di meritare Questa vittoria La nona Vediamo se finisce Effettivamente così Pagnozzi Tocca 1-2 Spettacolare con Diego Grande apertura Emanuele Grande azione Paratona di Cocci Grande azione Dell'Italia Poi però Castaldo La rimane là A disposizione Gli avversari Emanuele Con gran finta Palla dietro Per l'imperatore Finta anche per lui E tirò Ancora L'imperatore Che esce lì in mezzo Bruno Bruno Deglialise Dentro Gran palla E poi Se la sbatte Sul mento Non riuscendo A dare infatto A questo pallone Lancio di Cocci Precisissimo Per il controllo Di Andrea Porta vuota Poker Di pollice Andiamo a vedere Il controllo Vediamo Gran palla Di Cocci C'è il controllo Con un leggero Bicipite Destro Di Evangelista Stava veramente Quando il braccio Si stava chiudendo Verso il petto Però Fa la differenza Sul controllo E qui Situazione Confusa Con Bruno Che sbraita E c'è un cross Il corpo di testa Del Divo Annullata Quindi è La quarta rete Di pollice Ma occhi e baretti Che ripartono Di nuovo Campo aperto Che ci fate qua Signori Dell'Internas Ciccarello E Puglia A seguire L'elite Allora Sale Benissimo Imperatore In mezzo a due C'è un fallo qua Giabatte Ricciolio Apre Emanuele Ruba Andrea Tirata la maglia Se ne va lo stesso Ancora il capitano Dei baretti Recupera Pagnozzi Ma l'uomo addosso Gli fa un mezzo tunnel Casuale Involontario L'arro Perde in malo modo Oriente Rinauro Spinge su Evangelista Tutto solo Tredicesimo gol Di Evangelista Triplice Fischio Finisce 4 a 1 100 a 1 4 a 1 Perché è quarto gol Secondo 100 campo Stai ripetendo E sono la volta Quando è salito Allora Vuole dire una cosa Dopo questa Non ha vittoria Incredibile Prima volta La squadra vincere Tutte le partite La regular season Ed è incredibile Il fatto che Dopo 9 vittorie Ne basta Una all'8 gennaio Per uscire E allora Allora Dove sta Imperatore Qua Allora Imperatore I baretti Gianni 5 a 1 Per loro Perché poi mi ero Dimenticato un gol Effettivamente è finita 5 E testa alta Per tanto tempo Li avete tenuti lì Il risultato sembrava In equilibrio Poi però Il loro palleggio La loro voglia Di vincere Di segnare Hanno portato uno scarto Di 4 gol Vi siete mangiati 3 gol Questo si da 2 Davanti alla linea di porta Qualcosa anche in più Però Questa è una squadra Che sta facendo Sul serio E conclude con un primo titolo L'8 gennaio Si andrà Per i dentro o fuori Come ci arriva la tua squadra? Noi purtroppo Ci arriviamo Con poche certissime Forse Sì Quindi non possiamo Ovviamente Pretendere di essere Una squadra Diciamo Favorita Partiamo da outsider Dai Penso che non è contento Che ci incontra Perché non sarà facile Però oggi Comprendi vanno a loro Perché 9 su 9 È veramente Un bel lavoro Partita Però è bello Che anche oggi Abbiamo avuto testa Non eravamo tutti E abbiamo avuto testa Tranquillamente Alla prima In classifica Buon Natale Buon Natale Ciao Gianni Complimenti all'Italia Che ritroveremo L'8 gennaio E allora Evangelista E capocannoniere Dell'elite In questo momento Autieri E il capitano Della squadra Che le ha vinte Tutte 9 su 9 Facendo un record Sbordoniano In 21 edizioni Di storia E Cocci Si sta giocando Le carte Per il miglior portiere D'elite E chissà Se poi Non arriverà Un titolo Ancora più prestigioso Per poi ambire Al guanto d'oro D'edizione Ragazzi Ve la siete meritata Tutta Andrea mi diceva Io la volevo appendere Volevo dare questa partita A tavolino Però Lo spirito vostro È stato Straordinario Perché poi Non vi nascondo Che nelle poi Passatissime edizioni Qualche squadra Campione Del titolo Di Lega Non se le ha regalato Punti a tavolino Se magari mancava Una giornata Voi no Siete stati qua Vi siete giocati Le vostre carte Avete Cioè No distrutto Ma battuto Una squadra Che ha due titoli Di dizioni In tasca Una squadra Che da noi Ha registrato Tante vittorie In questo momento Siete più forti Guiderete il ranking Probabilmente Ci sarà lo Jan Folla Agli ottavi Se il Marianella Questa sera Non vince Il match Contro il Bragantino A voi la parola Parlo prima io Allora Come ti ho detto Due partite fa Questa qua Era l'obiettivo primario E adesso Andiamo a giocare Tutte le carte Nella fase di emersione diretta E ci tenevamo A fare il record Mi ricevi tu Carlo Di tutte le vittorie Che nessuno Che adesso aveva fatto Una dedica Per queste nove vittorie Tutto Quanto alla squadra Una dedica Dei 13 gol Alla squadra Al capitano Una dedica Per la parata Dal tipo Martinez Andiamo a mamma Fate auguri Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale E comprimete Barretti Jenny Pernand Antonio Ciccarello Battilio Puglia E ora siamo in Major League Con i Blaugrana E comprimagina Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale